Ciao a tutti! Eccomi qua ragazzi! Ciao Tiam Coricini! Vi mandiamo tantissimi coricini e tanti bacini, giusto? Allora, lei che si chiama Elena e io sono Erika e questa è la mia sorellina che si chiama Vanessa e oggi andiamo a comprare le cose per la scuola! Back to school! Finalmente è arrivato il grande giorno siamo contentissime, felicissime perché dobbiamo prendere tante cose Erika farà l'ultimo anno di scuola materna e invece la Vanessa, questa birichina piccolina è la fan parola alla scuola primaria Tu fra poco dovrai andare a scuola primaria invece la Vanessa è primo anno di scuola materna Eh sì! Ok, andiamo, siete pronte? Siamo arrivati! Siamo arrivate, giusto! Allora... Erika dovrai tenere la lista! Prego! Pronta! Sì! Allora... Allora... Sai Erika il prossimo anno ti dovrai prendere uno Oh, è bellissimo quello con l'unicarno Anche questo con Frozen c'è? Anche con Frozen, sì! Allora... E c'è anche questo con LOL, guarda che bello! Anche qui c'è! Anche questo tutto rosa! Anche qui! Anche qui c'è! Tanta scelta! Anche qui c'è! Io voglio quello! Tu vorresti una piccolina! Ma a casa Vanessa ce l'hai due! Dai ragazzi, ci spieghiamo! Andiamo! Abbiamo trovato! Wow! Questo è un padello da colorare! Qui dentro ha queste palline! È bellissima! E puoi disegnare! Questa fa un dipplime! Sì sì sì, quella colla l'abbiamo usata per fare lo slime! E ragazzi... E qui ci sono degli adesivi! Wow! E c'è un androzzino! Che è un cane! Un cane con la coda! Qua cosa stai facendo? Io faccio dipplime! Vuoi fare lo slime? Sì! Ho come la penna! Guarda questi evidenziatori! Sì per colorare! Ci sono anche questi! Guarda! Mi giro un po'! Ecco! Qua ci sono i pennarelli! E noi dobbiamo prendere questi! Quali? Allora! Prendiamo due! Ok! Mettila da dentro! Ecco! La Vanessa ha fatto un po' di spesa! Dopo dobbiamo controllare bene! Erika prendiamo i quaderni a quadri! Ti piace questo Erika? No! Oh no! Va bene! Scegli tu uno! Quale disegno ti piace? Guarda c'è questo con fiori! No! Sì! No! No! Quello a colore verde è troppo semplice! Guarda qua giù! C'è questo con gattino! Ma questo ha righe! A noi serve quello a quadri! Dov'è? Andiamo! Da quell'altra parte! Cosa stai guardando? Queste sono delle matite colorate! Eh sì! Prendiamo anche delle matite colorate! Non lo sai? Sì! Guarda! Sono questi! Wow! Sono i colori intensi! Guardate! Cosa hai visto? Qua praticamente è un set di introduzione alla tecnica più ricche e umida! Più ricche e umida! Più ricche e umida! Cosa hai visto? De qua! Sono... Cosa c'è? De qua le vuole! Pastelli! No! Questi voi non li usate tanto! Io sì! Ho trovato dei pennelli brintinati! Questi sono i pennelli glitter! Glitterati! Sì! Li vorrei prendere anche questi? Ma cosa farai? Un disegno un po' brintinato! Io voglio vedere questo! Eccola! Erika ci servirà anche una riga! E tu cosa stai facendo? Ti prendi gli occhiali? Oh! Sei qui si fa, Isha! Fai di là a guardare nel specchio! Dove? Eccolo! Ma non questi! No! Ma non ci stanno bene! Vediamo altri! Andiamo ragazzi! Ma cosa stiamo facendo qua? Siamo venuti a prendere tutto quello che ci serve per la scuola e voi vi siete fermati a prendere gli occhiali! Ehi! Andiamo! Intanto vado a mettere questa nel carello! Cosa stai guardando? Wow! Guardate questo! Guarda ci sono due splime! E' uno praticamente! Anche per me! Ci sono tanti giochi! Cosa dici? Prendiamo un play dock? Sì! Va bene! Non così! Allora! Scegliete un colore! Questo! Play dock! Cosa stai senti? E' una pasta da modellare Vanessa! E qua c'è tanta pasta! Anche slime! Tanti giochi! Guarda! C'è questo che puoi fare il pop corn! Hai visto? Anche io voglio farla! Anche io voglio farla! E' una macchinina che fa il pop corn! E di là! Guarda! C'è un altro gioco dove potrai cucinare! Sì! Prepari la torta! Coi play dock! E guarda! E qui! E' un altro gioco dove puoi fare la pasta da solo! E qui! E qua puoi preparare l'hamburger! E qui c'è il cagnolino! Sì! Che lo puoi portare nei valigio! Bellissimo! Guarda la piscina! Cosa hai visto? Io voglio questo! Vorresti la piscina? Sì! Tanta l'acqua! Wow! Questa è una piscina gigantesca! Ragazzi! Sto facendo tanta fatica con loro! Li guardate! Li guardate! Vogliono prendere tutto! Allora! Il riparto colori, penerelli, completato! Riparto astucci, zaini, diari, completato! E adesso andiamo a prendere i quaderni a quadri! Dobbiamo prendere due libretini da colorare e anche da vestire un po' tutto quello! Vi facciamo vedere più avanti! Pronte? E fra poco dobbiamo fare una piccolina pausa e dobbiamo andare a giocare un po' e a fare una merendina! Prenderemo una ciambella! Tu vorresti una ciambella? Ti sento un do di Play Doh! Bellissimo! Andiamo ragazze! Andiamo a prendere i quaderni! Avanti, avanti! Questo è il reparto del bambino! Qua ci sono i libri, tantissimi libri, piccole storie! Adesso Erika sta riprendendo tutto! Per la Vanessa prendiamo questo, coloriamo gli animali e ho visto anche questo scrivere in corsivo che mi sembra per Erika veramente un bel quaderno! Eh sì! Cosa dici? Ti piace? Sì! Guardate questi due bambini cosa stanno facendo! Vi riposate! Siete stanchi? No! Ragazzi siamo venuti in reparto giochi! Eccole là! Non li posso fermare, non li posso prendere a casa! Abbiamo finito qua, abbiamo preso tutto quello che ci serviva per la scuola e appena che torneremo a casa vi faremo vedere tutto quello che abbiamo preso! Restate con noi! Siamo fermate un po', adesso mangiamo la pizza! Dove sta? E se fate le brave, si mangia anche il priage dopo! Sì! Buon appetito! Come ti sembra buona? Vi ami! Non vediamo l'ora di farvi vedere quello che abbiamo preso! Veramente! E l'abbiamo messo in mano! Sono contentissima più io! Giusta? Sì! E guardate queste due piccoline! Buono Vanessa! Sono stanchissima! Cioè, se vorresti andare a fare lo shopping per la scuola, ti dovrai prendere una giornata intera! Perché ci siamo organizzati, abbiamo fatto la lista, tutto quanto... Dopo volevano quello, quell'altro, i quaderni, le matite, quelli grossi, quelle sottili, i penerelli... Cioè, un casino! Vi dico, un casino! È così con i bambini, giusto? Non mi posso immaginare il prossimo anno come sarà, perché Erika dovrà fare la prima elementare, se non mi sbaglio così si chiama! La prima elementare? Giusto? Cioè! Non sono così capace, ma dovrò imparare un po' tutto, anche per parlare faccio tanto fatica, per cui l'ho cominciato... Alla scuola... Alla scuola... Alla scuola... Primaria? Sì! Da sola! E io vado a scuola materna! E tu? Dove vai quest'anno? Da sola alla materna! A scuola materna si va, giusto? Alla scuola materna! Anche Vanessa è cresciuta troppo in fretta, vorrei fermare il tempo! Cioè... Ma io ce l'ho adesso 5 anni! Tu adesso ce l'hai 5 anni, invece la Vanessa? Quanti anni hai, Vanessa? 3 anni! 3 anni! Bellissimo! Cioè, il tempo passa troppo veloce! Adesso la nonna mi sta guardando che parla abbastanza veloce! E tutti quelli che sono in giro mi guardano perché sto facendo questo vlog! Ma... Noi ci divertiamo! Ecco ragazzi, guardate dove siamo! Il mondo dei giochi e dei giocattoli, giusto? Adesso comincia il divertimento! Andiamo avanti? Andiamo avanti, dobbiamo cercare quello che ci serve! Mamma mia, quali i giochi sono qua! Erika, sono tantissimi! C'è Frozen! C'è Frozen! C'è Olaf, guardalo! No! E dove è la Vanessa? Eccola! Cosa hai preso? Prego! Fammi vedere un gioco! Vediamo il mio primo laptop! Non è male! Guarda! Guarda Vanessa! La casa delle bambole! Vai gigantesca questa casa! Cosa state cercando, Val? Cosa state cercando? Arika, tu mi hai detto che vorrei prenderti un peluche! Mi hai detto che vorrei prenderti un peluche! Masha! No! Andiamo a cercare un altro! Guarda più avanti! C'è l'olio! Vieni, vieni! Ti faccio vedere una cosa! Venite! Guarda qua! Ci sono le bambole, LOL! Guarda questa che bella! Anche quella! Vorrei giocare io! Chiudi voi! Sai! Guarda Vanessa! Questa ha il ciuccio! E se li tolì il ciuccio comincia a piangere! Sai! Ragazzi guardate! Ci sono le bambole Barbie! Mamma mia! Hai visto Vanessa? Io ce lo voglio di questo! Cosa vorresti? Di questo! Vorresti questa bambolina? Sì! Che ha il bebè! Sì! E la mamma è incinta! Hai visto? Hai visto che ce l'ha la pancia? Piace! Cosa dici Vanessa? È scappata la Vanessa! E dove va? Dove vai? Vanessa andiamo che dobbiamo trovare i elastici per i capelli! Ragazzi è bellissimo! I bambini si diventano! E voi i genitori li dovete preparare perché qua si lasciano un sacco di soldi! Ecco! Siamo arrivate al reparto dove troveremo elasticini e tante altre cose! Guardate! Ma che bello! Cosa state facendo? Guarda! Wow! Ma si è bellissimo! La possiamo prendere al mare, sai? Sì! Vanessa tu cosa stai facendo? Guardate ragazzi! Guarda anche questo zaino! Bello! Chiudi! E ci sono anche delle borse! Ecco! Guarda questa che bella! Erika! Possiamo prendere questa borsa e dentro ti potrai mettere le tue cose, sai? Ragazzi faccio tanta fatica a prendere elasticini! Veramente tanta fatica perché ci sono tantissimi! Questi sono più per Natale! Invece io ho scelto, vi faccio vedere il regale dove sono? Questi guardate sono bellissimi! Brillano! Ragazzi eccovi qua! Vi cercavo dappertutto! Cosa stai facendo? Ehi! Cosa stai facendo? Un peluche piccolo! Un peluche piccolo! Con questo guarda vuoi questo! Ecco ma ci sono tanti peluche qua! Wow! Cosa hai? Ho fatto questo! Mamma mia ma è grande! Ragazzi siamo ritornati a casa e vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo preso! Giusto? Praticamente facciamo il resoconto della giornata! Eh sì! Allora! Questo è un astuccio! Dimmi contro te! Cos'è il mio colore? Guardate questo astuccio di Vanessa! E ora! C'è un gattino qua e dentro c'è l'unicorno! Guarda i colori! Sì ci sono i colori Vanessa! Intanto potrei mettere tutti questi colori qua dentro! Ok? Anche io li posso metterli! Anche tu! Così vi preparate un po' per la scuola! Giusto? Sì ecco! Fate attenzione di non mescolarli! Sì! Fatto! Tu li puoi mettere da quell'altra parte e li potete mettere dentro! Wow! Mamma mia quanti colori! C'è questo colore! È bellissimo quello! A me mi piace tanto è un rosa Barbie! Ma c'è anche a me! Metti tutto dentro! È mio blu e mio... C'è me! Fatto! Qua c'è la colla! Ok la mettiamo sulla questa parte! Sì! E vediamo! E c'è un'altra uguale anche per te! Va bene? Anche questo è per Vanessa! Anche questo è per Vanessa! No praticamente ho preso uno per Terica e uno per la Vanessa! Va bene! Vediamo aspetta! Dobbiamo vedere! Questo è tuo! Invece questo è per il serpente e di Vanessa! Oh che paura! C'è un altro con unicorni! E dentro ci sono anche gli adesivi! Lo sai? Vediamo! Dove sono? Adesso! Eccoli! Ci sono tanti adesivi qua! E dovrai prestare qualche adesivo anche per la Turilina! Va bene? Qua c'è un altro quaderno! Eh sì per me! Per imparare i numeri! Ci sono tanti giochi divertenti! E li dobbiamo fare in vacanza! Sai? Eh queste sono le bavaglie! Per noi due! Io voglio bavaglia piccola! Sì! Perché a scuola ci hanno chiesto un set di bavagline per tutte e due! E questi sono i calzini per me! Antiscivolo! Sì! E questi sono per la Vanessa! Vediamo il disegno! Guarda che carino! Vanessa ti piacciono questi calzini? Adesso! Oh sì! Due stacchettini! Uno per la Vanessa! Vanessa ha scelto il verde e invece tu il rosa! Adesso facciamo vedere le scarpe! Vediamo! Sono di Vanessa! Guardate sono così carine! Ecco! Le scarpe di Erika! Il colore l'ha scelto lei! Vanessa avete le scarpe dentro? Adesso vi facciamo vedere i vestiti! Vediamo cosa c'è dentro! Questo è per me! Ecco! È bellissima! Hai visto che qua c'è scritto Smile Everyday! No! Cagnetta! È una cignetta! Sì! Uh uh ah ah! È per me! Questo vestito ragazzi l'ho preso per la vostra cucinetta! È così! Per la vostra cucinetta! E come si chiama? Yana! Yana! Ma però abbiamo uno più piccolo! Ecco! C'è questo elastico bello! Che è per me! Che è per te! Perché sempre ti vuoi fare una codina! E questo elastico sarà bellissimo! Se volete vedere Outfit di Erika per la scuola scrivetelo oggi nei commenti! Perché faremo un video molto speciale per voi! Ti amo cuoricini! Speriamo che questo video vi sia piaciuto! Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale! Ma mettete tanti like! Ciao ciao! Ciao! Ciao!